Ciao a tutti amici. Se devo essere sincero, io non riesco ancora a credere che questo sia successo a me. Perché sono sempre convinto che un uomo si deve mantenere da solo. Lo dicono tutti. Il lavoro nobilita l'uomo. E l'amore lo rende forte. Io ancora sono stordito da questi anni passati a guardare la... Ma non è questo. È questione di classe. Potevo diventare un campione, essere qualcuno. No è niente, come sono adesso.